Si parte subito a bomba alle 15 con Verona e Inter, ma senza andare troppo nei dettagli, questa partita dovrebbe e potrebbe regalarci abbastanza gol e per questo motivo l'unico modo per far trading su questa partita è andare sull'over 2,5. Quindi già la prima la mettiamo ed è over 2,5 dopo 5 minuti di Verona e Inter, ovviamente qui parliamo per i nuovi di trading sportivo, quindi non di scommessa, quindi al 18 c'è Milan-Juventus, io me la immagino una partita under, a questo punto io mi sento principalmente ad andare inizialmente almeno con una strategia under. Alle 20.45 Parma-Atalanta, io vedo adesso in questo momento una bella quota che è 1,74 dell'Atalanta in exchange e io qua me la prenderei con tutto rispetto del Parma, il 2 più lo 0-0, la mia classica strategia da corso e da academy e io su questa mi metterei un bel punto. Partita anche qua probabilmente da over, quindi per gli esperti potrebbe essere anche profittevole combinare le due strategie, quindi il 2,0-0 e l'over 2,5 dopo 5 minuti. Su Genova-Cagliari, qui mi aspetti qui, qua ci sta dentro un banca 2 perché le quote sono molto belle, quindi senza andare con l'1 e lo 0-0, qua un bel banca 2 tranquillo, anche qui secondo me un overino ci può stare, però magari in live, non subito, perché bisognerebbe vedere proprio se ha cambiato qualcosa, viera, anche se è presto. Come Fiorentina, questa è una partita secondo me un po' puzzolente, cioè se si ha, diciamola così, se si ha un profitto da poter poi magari un 30 o un 40% di quel profitto mettere sulla Fiorentina più 0-0 o sul banca Cuomo, ma allora sì, altrimenti se è la prima partita di giornata che fate, no, lasciamola stare e andiamo avanti. Torino-Monza, idem, idem, anche qui non mi faccio male su questa partita, anche perché non saprei dove andare, ne so neanche sui segni gol, quindi over o under non so dove andare. Napoli contro Roma, partita da under, partita da under per me, Ranieri cercherà di bloccare un po' il Napoli, anche se poi magari alla fine il Napoli vincerà, però preferisco guardarla, guardarla live. 20 e 45, Lazio, Bologna, e visto anche la cota molto interessante, se non interessantissima della Lazio, qui ci sta un bel 1 più 0-0 in questo momento, in exchange a 1,97, assurdo. Per me, qui, 1-0-0 è la cosa migliore, 1-0-0 e una combo con un bel over 2,5 dopo 5 minuti, qua ci sta alla grandissima. Poi, 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 chiudiamo, chiudiamo la giornata con le due del lunedì, due partite che è meglio non averle, Empoli-Udinese e Venezio-Lecce, sapete che farei un bel no-bet su queste due partite e finirei qui la giornata di Serie A. E con questo chiudo e vi rimando al prossimo video, che non so quale sarà. Champions, Serie A, nazionali, buh! Alla prossima, ciao!